bentornati a ah? ah? ah ah già bentornati a toy radio oggi come avrete capito si parla di memoria o meglio di perdita della memoria cioè di amnesia tipo quando vi dimenticate il codice del bancomat ecco lì un gran casino beh si può evitare per esempio facendosi un bel nodo al braccio Ma col nodo al braccio mica ti ricordi il codice del bang? Hai ragione. Quando hai l'amnesia hai l'amnesia. Ne sa qualcosa? L'ospite di oggi, Alibaba, che da millenni ormai è chiuso nella grotta dei 40 ladroni e non si ricorda la password per uscire. Signor Bababa, ci sente? Scusi, ma lei non è Alibaba. Lei è il terrorista cattivo che tiene in ostaggio il soldato Drake. Cosa ci fa nella grotta di Alibaba? Nascondo di ostaggio dal radar del nemico. Ha l'arma. Solo che non ricorda parola magica per uscire da grotta. E adesso qui manca aria. Ha l'arma perché qui a furia di datare... Sta zitto tu che anche tu con i datari ha l'arma. Vabbè, ma è facile. Scusi, lo sanno tutti che la parola magica per uscire dalla grotta di Alibaba e apriti sesamo. Ha l'arma. Quella password vecchia. Vabbè, ma l'ha cambiata lei la password? No. E chi l'ha cambiata? Lui. Ma lui non ricorda. Vero? Vedi? Dice sì. Vero che non ricordo. Vero? Vedi? Dice non ricordo. Vabbè, ma gli tolgo il bavaglio. Ha l'arma. Da oggi basta datare. Pagato ce solo datare. Ha l'arma. Vabbè, ma gli tolgo il bavaglio. Vabbè, ma gli tolgo il bavaglio.